Ciao, ciao. Umberto, come stiamo? Come stiamo, Umberto? Bene, grazie. Il viaggio è andato bene? Un po' di curve, però bene, sì. Cosa, cioè che effetto ti fa ritornare in Calabria perché vieni spesso a trovarci? Come ti accoglie la gente, i calabresi tutti? Guarda, io onestamente ho sempre avuto una grande accoglienza qui da voi e quindi ogni volta che ho l'opportunità di venire sono molto felice. La cucina calabrese com'è? Fantastica. Abbiamo già cenato? Piccante. Piccante. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti ieri di essere ritornati dalle vostre parti, perché noi siamo a giro, da sempre. Però ci mancava questo pubblico così accogliente, che ci trasmette veramente tanto a noi che siamo qui sul palco. e a parte la vostra bella Calabria che comunque noi tutti amiamo e apprezziamo Lasciamociti Io sono tu Il frugolo Che è una fredduga Il cuore nell'arretto Quando io premo Davanti al tuo seno Ti odio e ti amo È una forfanna Che muore spartendo Le ali L'uaggato Si qualcuno Che mi chiama E se nessuno Ti passerà Le malattie Come quando Non puoi mandarla Ci sarà Il cielo e il mio Il cielo e il mio Tu Mi aspetterai E una sera Non si vuole Di più Perché dentro Di noi Si vuole Di più Senza essere noi Dove E lo so Non lo sai Niente E tu Ma va là Che lo sai Visto da vicino tu Sei più bella Che mai Baci da un minuto Tu Tu Non ne dai Non ne dai Non ne dai Che ti fa tentare Mentre Mi smazzino Mi smazzino E tu Ma sapone per te Mi scelta un luogo Ma che tiene l'aria Manca di una mano, che non avrò piano Manca questa volta, invece di domina Una memoria torna, un papà veri Un minore a te Un minore a te